Proprio nell'ottica di favorire la popolazione all'utilizzo delle energie rinnovabili e anche a seguito delle direttive della Comunità Europea e anche dei provvedimenti governativi come regione ci allineiamo anche a tante altre regioni che stanno operando in tal senso quindi con questo progetto di legge intendiamo favorire la nascita e la creazione di queste comunità energetiche da fonti rinnovabili che appunto sia costituite e costituibili da cittadini, da singoli cittadini ma anche dagli enti locali devono servire a stimolare all'autoconsumo, all'autoproduzione e anche ad accumulare questa energia da poter vendere all'interno di queste comunità energetiche che sono enti giuridici che possono nascere attraverso questo progetto di legge che spero il Consiglio regionale approverà e che quindi sarà un passo verso il futuro e verso la possibilità di cercare di uscire fuori dal tema del consumo di energia derivante dai petrolio e dai soldi derivati e quindi appunto sviluppare questo sistema delle energie rinnovabili perciò questo nome appunto Comunità Energetiche proprio perché intendiamo percorrere questa strada e perché vogliamo mettere al centro di questo sistema anche gli enti locali che possono essere attori protagonisti nella creazione di questi enti ecco ci aspettiamo che questo poi nell'arco degli anni porti dei frutti importanti e che ci spinga anche in tema di transizione ecologica a raggiungere e a coltivare il tema dello sviluppo delle energie rinnovabili e quindi l'uscita dalla cosiddetta dicotomia petrolio e derivati Grazie 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 Grazie